Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico verso Roma tra Firenze e Scandicci e Firenze in Peruneta. Prudenza inoltre per nebi e banchi tra Arezzo e Valdichiana. Per lavori segnaliamo che questa notte sulla 1 direttissima in orario 22.6 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica, località La Quercia e località Aglio in direzione di Firenze. Per il traffico ferroviario sulla linea alta velocità Roma-Firenze dalle 9.05 il traffico è rallentato verso Firenze per un problema tecnico con treno passeggeri nazionale fermo nei pressi di chiusi. I treni in linea registrano ritardi fino a 30 minuti. Mottiamo pagina per il traffico aereo e il volo Firenze-Roma delle 11.10 quest'oggi è cancellato. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!